Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio svelarvi un inquietante mistero che è presente in Animal Crossing New Horizon, ossia la trasmissione aliena. Avete capito bene la trasmissione aliena. Se avete una tv in casa, è indifferente il modello, che sia quello appeso, quello classico, è indifferente. Se venite in casa vostra, ovviamente, ogni sabato alle 3.33 del mattino e accendete la tv, vedrete quanto vi mostrerò tra poco. Ho catturato, diciamo, il momento, perché io lascio acceso sempre tutto in casa, tanto la corrente non la pago in Animal Crossing, e ho notato una strana cosa, la tv che dava interferenze e poi è uscito fuori un alieno con l'astronave, un alieno che cercava di dirmi qualcosa di incomprensibile. E' una cosa abbastanza inquietante, sinceramente, non sappiamo se è una cosa messa così dagli sviluppatori, non sappiamo se, diciamo, è un indizio su un possibile DLC, non lo sappiamo. Però è una cosa certa. Quindi, apprendete una tv, acquistate una tv, accendetela e ogni sabato alle 3.33 assisterete a quanto segue. Grazie a tutti.